10 5 4 3 2 1 vai 30 addosso destro occhio subito sinistra 2 in accenno destro 100 sinistra 4 attento destra 2 30 sinistra 3 100 sinistra 4 30 guarda destra 3 lunga poi 150 addosso dritto 150 vista addosso dritto subito destra 4 su addosso 100 alcipresso chicane tra destra una rotoballa 30 sinistra 2 media in destra 3 poi 150 sconnesso in destra 4 occhio o meno anche perché non tagliare 100 più giù all'ora ti taglio sinistra 2 150 sinistra 4 corda in destra in destra 2 4 corda in destra 2 100 basso dritto su ponte in sinistra 4 lunga lunga 4 lunga lunga in destra 2 su ponte 50 50 destra lunga corda sinistra 2 lunga 30 sinistra 4 100 bravissimo destra 3 in sinistra 3 forse discida occhio 100 100 100 sul dosso in destra 4 in sinistra 5 corda in destra 4 occhio chicano entra a destra 50 sinistra 5 corda in destra 4 50 alla madonna sinistra 3 resecca 50 sinistra 4 lunga bravissimo 4 lunga non esagerare 150 poi asci pressi sinistra 2 bravo sinistra 2 qua 150 destra 4 poi 20 destra 4 lunga e diventa 3 alla campana poi 50 eccola destra 5 50 occhio sinistra 2 200 destra 3 50 3 50 sudosso sinistra 4 corda in destra 4 chicano entra a destra 30 destra 3 laggiù un fondo e poi ancora 30 destra 3 30 dosso dritto 30 sinistra 3 30 sinistra 3 in sinistra 4 lunga apre 100 destra 4 corda in sinistra 5 tieni la terza vai tranquillo in sinistra 5 lunga in sinistra 5 lunga ancora in sinistra 4 con fondo occhio tutto di terza bravo 50 destra 4 lunga sul fine 4 lunga sul fine 5 10 6 6 se andava nel culo bravo cincino bravo 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 e grazie mille grazie a te grazie a te